Quindi sono venuto apposta con la fascia perché il ringraziamento che faccio non è il mio ringraziamento personale che ho già avuto modo di farvi più volte e continuo a fare, ma è un ringraziamento della comunità. Quindi tutta una città deve essere consapevole del dono che riceve, deve essere consapevole che grazie a voi, alle vostre iniziative, ai fondi e alle energie che avete messo abbiamo ottenuto un qualche cosa, un qualche cosa che porterà dei benefici a più persone e a quelle altre vita. E quello che io auspico è che questo diventi un esempio per altri, perché viviamo sempre in un mondo più individualista dove si pensa a se stessi, si pensa a vado bene io, non mi interessa se mi dici in casa, invece ha un problema, invece questo gruppo di ragazzi e di amici nel ricordare un amico che non c'è più hanno invece anche fatto del bene e sono riusciti a farsi apprezzare da tutti e mi auguro che possano davvero, come dicevo prima, essere da esempio. Io non faccio, non lo seguo perché sono diventato un pistolotto, veramente a nome della città, grazie a voi. Grazie.